Ora ci portiamo l'uovo da sopra e facciamo la domanda come fosse una frittata. Buongiorno bella nanzia, tutto al posto? Io vi saluto e faccio un bel bacio a tutti quanti i miei nipoti. Si è nato che mi è buttato a mente da tanti anni fa, da un anno a me, un panno di tosto e faceva una frittata. E io mi è consulato, mi è buttato poi dopo tanti anni. Ora vi ho detto un po' voi in la padella. Ha già reso 26. Ecco qua, tagliamo poche fettine di panno e faccio una rotata e una girata. Questo è il panno duro, panno di due giorni. Ecco qua, lo tagliamo a fettine. Poi vediamo se oggi si è fatto, no. Ecco qua, se abbiamo a friggio. Se avrò ne amo un bico, mettiamo il panno. a me, se esbattere per l'altro. Sabe? Non mi sconto mai i miei sorrisi, questo è il mio sorriso. è il mio sorriso. Pè e vè. O pecorino. O c'è che dà gusto qua. Ecco qua. La timidea. È una brega fina, va topare. Ora ci mettiamo l'uovo da sopra e facciamo la domanda come fosse una frittata. e poi ci mettiamo la domanda come fosse una frittata. Ora, non mi sconto qua che cosa, del passato. mi piacciono. Ci mettiamo la domanda come fosse una frittata. Sempre sono liberta. Conde si muove. E poi non si muovezze. Mi piacciono per la domanda come fosse una frittata. È vero la domanda come fosse una frittata. E poi metto qua le arribe. Ecco qua, hanno fatto la frittata e il pane. Ora mi consolo, ma non lo faccio a mia nonna. Non cittava niente e ci faceva fare belli pranzi. Ecco qua, è stato bello croccante e croccante, con la bella frittata e mi consolo. Questa è una cosa antica quando si scorda male, lo tiene sempre presente. Se vuoi darem scrivere a me, che io ho faccio. Favorito, capo consolo.